buongiorno a tutti oggi vi presento una serie di forbici con manico in nylon molto resistente struttura in acciaio inox sono forbici che hanno varie misure questa ad esempio un 15 cm 44 grammi quindi molto leggera 19 centimetri diventa un pochino più grande 21,3 centimetri di dimensione vediamo che uno dei due anelli è più lungo allungato proprio per un'impugnatura più comoda questa è 26 centimetri vediamo che l'impugnatura è larga riusciamo a inserire 4 dita della mano e in particolare proviamo a tagliare dei pannelli di feltro un feltro da 3 mm molto compatto normalmente difficile da tagliare con le forbici normali perché si sfalda ed è piuttosto duro mentre in questo caso vediamo che il taglio è netto perfetto non si sfilaccia io ho fatto prima una traccia con il pennarello proprio per riuscire ad andare da dritta ma non ho nessun problema nel tagliare lungo una linea sono forbici che si possono usare anche per altri utilizzi ad esempio poiché sono acciaio inox vanno in lavastoviglie si possono lavare tranquillamente quindi si possono utilizzare anche in cucina possono essere utilizzate per tutti i lavori di casa ufficio per le stoffe anche pesanti vediamo come il taglio sia preciso netto senza sfilacciature qui alla fine della linea c'è un angolo e vediamo come l'angolo venga perfetto che si possono usare anche per l'angolo e vediamo come l'angolo e vediamo come l'angolo inserito 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 un'angolo e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.